È iniziata questa mattina l'animazione rosso-blu che nel Tempio del Rugby Rodigino ospita bambini e ragazzi per tante giornate di giochi e divertimento, in sicurezza naturalmente. Terzo Tempo, questo è il nome dell'animazione estiva, è un progetto della Polisportiva CSI con la collaborazione della Monti Rugby Rovigo Junior e la partecipazione della Femici Zeta Rugby Rovigo Delta. Come Femici Zeta Rugby Rovigo Delta siamo molto contenti di essere parte di questa iniziativa e non possiamo che essere costruttivi, ha detto Andrea Trombini. Porteremo giocatori e allenatori per qualche giornata in cui si possa praticare lo sport che ha dato al Battaglini e a tutta la città di Rovigo grande valore. Speriamo in questo modo di portare ancora più valore alla nostra città e a questo sport. Abbiamo voluto fortemente esserci anche quest'anno nonostante tutte le restrizioni imposte dal Covid-19, ha detto Maria Vittoria Dainese della Polisportiva CSI. Quest'anno, assieme alla Monti, abbiamo pensato ad un progetto condiviso con tante attività presso le strutture del Battaglini. Ci sarà tanta attività all'area aperta, sport, giochi e divertimento per tutti i bambini. Un modo per recuperare tutti i mesi di lockdown con i periodi di stasi forzati e ridare ai bambini la gioia di condividere e socializzare. La Monti Rugby Rovigo Junior ha accettato con entusiasmo di pensare e organizzare questa iniziativa assieme alla Polisportiva CSI. Un modo per riaprire gli spazi ai bambini, che sicuramente sono quelli che in questi mesi hanno sofferto di più. Abbiamo già potuto constatare questa mattina che il Prato Verde e gli spazi ampi sono stati molto apprestati da bambini, ragazzi e genitori, ha detto Claudia Biasissi per la Monti Rugby Rovigo Junior. L'animazione si svolgerà dal lunedì al venerdì, dal 15 giugno al 21 agosto e sarà aperta a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, in periodi stabiliti di due settimane per poter aderire al meglio alle disposizioni e ai protocolli per i centri estivi, che richiedono gruppi il più possibile stabili nel tempo ed omogenei. Sono aperte le iscrizioni per il primo periodo che va dal 15 al 26 giugno e che si svolgerà negli spazi dello Stadio Battaglini ed eventualmente presso le Scuole Bonifacio. Per presentare la domanda basta andare sul sito della società Rosso Blu e nella sezione Animazione si troverà l'apposito modulo. Per presentare la domanda basta andare sul sito della società Rosso Blu e nella sezione Animazione si troverà l'apposito modulo.